Mi chiamo Gianmario Faedda, sono un assicuratore ormai da più di 40 anni, sono nato in Sardegna. I miei problemi con i denti sono iniziati una trentina di anni fa, avevo sempre dei problemi, ero sempre dal dentista e continuavo a spendere dei soldi ma in effetti non arrivavo mai a una soluzione definitiva. Ho speso ma non li conto ma senz'altro sono più di 30 40 mila euro e con il problema alla bocca. Una situazione grave, una situazione estrema, sopra lui aveva una protesi mobile, giù 4, 5, 6 denti. Il paziente è venuto a noi deluso perché tutti all'estero non ne ha dato nessuna soluzione. Nonostante io sia un paziente a rischio perché ho problemi di cuore e questo è un grosso problema per qualsiasi tipo di intervento. quando sono venuto qui per me io ho trovato l'eccellenza perché perché non me l'aspettavo così grande ecco per me siamo al top no per cui che che se ne dica non so se in Europa esiste una cosa di questo genere. Sono soddisfattissimo entusiasta e non c'è solo il la professionalità del medico c'è c'è di più. Sono venuto con l'intenzione di fare solo la parte superiore mi è stato consigliato quando sono venuto qua che è meglio farle insieme per per una questione di lavoro migliore la seconda volta che sono venuto ho fatto gli impianti sia sotto che sopra perché ho subito due interventi nel giro di due giorni ho avuto un'operazione a cuore quindi al valvolo aortica e penso di essere un paziente difficile per una situazione di questo genere per voi però anche sotto questo aspetto mi sono sentito molto rassicurato perché intanto mi avete fatto fare la visita cardiologica mi avete accompagnato voi con una persona a fare un elettrocardiogramma a vedere quindi nonostante io avessi portato la mia documentazione non ve ne siete stati mi avete rassicurato perché voi volevate essere sicuri che le cose si potevano fare. Ho avuto uno svenimento perché non riuscivo a frenare la perdita di sangue in seguito all'intervento per cui ho avuto uno svenimento e qui devo devo elogiare fare una nota di merito anche perché nella gestione dell'emergenza vi siete comportati così come in fondo mi aspettavo Noi abbiamo risolto questo caso estremo con la tutta squadra e adesso il paziente ha denti fissi può mangiare può sorridere può vivere una vita normale. In ultimo viaggio lui già era contento non era deluso perché lui sapeva che tutto andrà bene e in sicure mani. Per noi è importante che il paziente sorride e fare aggiornare un caso che dimostra questo. Sono arrivato alla fine del mio percorso ho finalmente i miei denti e sono veramente soddisfatto. L'altro ieri mi hanno messo i definitivi dopo vari consulti c'era un team di medici che praticamente assieme a me si guardava la perfezione del dente si andava bene. Poi ieri sera sono andato a mangiarmi una pizza assieme ad amici con con la logistica e quella è stata la sensazione più bella perché erano anni che non masticavo e tagliare la pizza con la parte laterale sinistra e la parte laterale destra che non li ho avuti non ne ho mai avuto è un taglio così perfetto è una masticazione così cioè io sono veramente soddisfatto. Sono anche bene lo sento molto mi sono confrontato con Paola sulla battitura dei denti e non so quale sia migliore se il suo mio. Devo dire che ho raccontato la mia esperienza anche al mio medico che mi segue cardiologo e mi ha detto ma che bella esperienza questa è da raccontare da dire da scrivere quando ti trovi bene se vai a mangiare in un ristorante ti trovi bene ti trovi da dio cosa fai la prima cosa che vai a mangiare la perché è qui è uguale la stessa cosa qui io io mi sento in questo atteggiamento ecco grazie a voi veramente